Benvenuti al meteo di Telenuova domani e giovedì 20 ottobre. Da prima piogge locali temporali al nord-est, Liguria e Toscana, poi migliora. Piovaschi sul Lazio, peggiora in Sicilia, con piogge temporali sui settori settentrionali, piovaschi deboli e nubi al sud. Sull'Italia sarà presente una debole circolazione depressionaria che spingerà a masse di aria molto umida provenienti dal Martirreno. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con piogge, in particolare sul settore occidentale della regione. La nuvolosità sarà intervallata da schiarite parziali, temperatura in diminuzione, venti moderati da ovest, mare mosso. Grazie per la visione!